E la realtà è che di informazioni non ce ne sono, il traffico è regolare per non dire scarso su strade e autostrade italiane. Una buona serata dalla redazione di Onda Verde, ringraziamo gli ascoltatori per essere sintonizzati sulle frequenze di Radio 1 e andiamo a vedere quali sono le uniche tre notizie attive in questo momento. Sulla 1 Firenze-Roma ci sono mezzi spargisali in azione tra Valdichiana e Valdarno in direzione di Firenze e ancora sempre sulla 1 tra Pian del Voglio e Sasso Marconi in direzione di Bologna ci sono sempre mezzi spargisali per evitare il ghiaccio. E ancora tra Firenze-Scandici e Valdarno in direzione a Roma, ancora sulla 1 Firenze-Roma, sempre mezzi spargisali in azione. E' davvero questa l'ultima notizia delle poche che abbiamo in questo momento. Buon viaggio e buon ascolto. In collaborazione con il CIS